Guardate, guardate, guardate che meraviglia! Sono gnocchi scuri, marroni, preparati con che cosa? Intanto conditi con delle cozze, il brodo delle cozze e del finocchi saltati in padella. Un tripudio di sapori ragazzi, veramente da assaggiare, da provare. Prepariamoli insieme. Acqua, caffè e farina. Per condire gli gnocchi, del finocchio saltato in padella, cozze, acqua delle cozze e olio extravergine di oliva. Acqua e caffè nella casseruola, portiamo a bollore. Uniamo la farina tutto in una volta. Amalgamiamo con un cucchiaio di legno e trasferiamo il composto sul piano da lavoro. Impastiamo bene. Otteniamo un panetto bello liscio che non si attacca alle mani. Facciamo tanti salamini, tagliamo gli gnocchi, passiamoli sulla riga gnocchi, se volete, altrimenti anche no. Per il condimento, saltiamo la dadolata di finocchi in padella con un filo di olio caldo e facciamo dorare. Olio Evo, cozze con la loro acqua, in un'altra padella. Lessiamo gli gnocchi in acqua bollente salata per un minuto. E poi scoliamo direttamente nel sugo delle cozze. Mantechiamo e serviamo con la dadolata di finocchio. Un tripudio di sapore ragazzi, da provare assolutamente. Gnocchi al caffè con le cozze. Gnocchi al caffè con le cozze. Gnocchi al caffè con le cozze.